Il 2020 è stato l'anno più difficile per la Lega di Matteo Salvini, da quando quest'ultimo ne è segretario. Il partito resta costantemente la prima forza del Paese nei sondaggi, seppur con un margine molto meno rassicurante rispetto a un anno fa, a gennaio la Lega era stimata dai sondaggi stabilmente oltre il 30%, 30,8% secondo la supermedia Utrend, mentre a dicembre è sotto il 25%, dopo un anno di continua discesa frenata solo negli ultimi mesi. Insomma, in un anno la Lega ha perso 13 punti di vantaggio rispetto a Fratelli d'Italia e 8 rispetto al Partito Democratico ma ciò che fotografa meglio le difficoltà del leader leghista e la minore centralità della sua figura nel panorama politico italiano e nel centro-destra, il calo della Lega va infatti di pari passo con la crescita di Fratelli d'Italia e del gradimento verso Giorgia Meloni, ornai in grado di contendere a Salvini la guida del centro-destra. Molti fattori hanno contribuito ad appannare l'immagine della Lega e del suo leader, dalle sconfitte elettorali alla gestione, effettiva e comunicativa, della pandemia. L'origine dei problemi della Lega in questo 2020 si può identificare facilmente nella sconfitta elettorale alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, e non solo perché essa risale proprio a gennaio. Matteo Salvini investe molto del proprio capitale politico in questa sfida, sperando che una vittoria della senatrice leghista Lucia Borgonzoni provochi la caduta del governo giallo-rosso e dia la possibilità al centro-destra di tornare al governo, magari attraverso un passaggio elettorale che in quel momento sembrava avere un esito scontato. Del resto, c'è chi ha parlato delle regionali in Emilia-Romagna come di un vero e proprio referendum su Matteo Salvini. La scommessa si rivela persa quando la sera del 26 gennaio Lucia Borgonzoni resta otto punti dietro al candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini, un abisso rispetto alle previsioni e agli ultimi risultati delle politiche e delle europee nella regione. Il fatto che la Lega sia abbondantemente il primo partito nel centro-destra e che prenda contemporaneamente il 12% in Calabria, praticamente quanto Forza Italia, che esprimeva la candidata presidente, è una magra consolazione. La spallata al governo è fallita e con l'emergenza Covid che sta per iniziare non ce ne saranno altre per un po'. Da qui si accentua il vero calo della Lega nei sondaggi, il partito tocca il suo massimo del 2020 a inizio febbraio, pochi giorni dopo le elezioni, ma da lì è una discesa continua e costante, sulla quale influiscono più fattori, dalle ripercussioni delle sconfitte elettorali alla crisi del coronavirus. Grazie a tutti.